Proclamato lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale dalle organizzazioni sindacali di rappresentanza del settore per oggi, venerdì 16 settembre. Oggi non saranno quindi garantiti servizi di navigazione, automobilistici e tramviari, a partire dalle 16 fino alle 23 e 59. Gli unici servizi che saranno garantiti saranno quelli minimi di collegamento nella rete di navigazione e quelli nella fascia di garanzia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.